...di Cuneo. Oggi su tutti i giornali locali sono apparse informazioni in merito al proseguimento di indagini nei confronti dei vertici di questa fondazione bancaria, esclusi gli ultimissimi cambi nei vertici. Le accuse pare che siano, si apprende dai giornali, appropriazione indebita, falso ideologico e ostacoli all'organo di garanzia. Ora, questa situazione che io ho avuto la delicatezza di definire groviglio armonioso è stata già da me sollevata in ben due interrogazioni al Ministro Padoan, che non per sport ma per obbligo di legge dovrebbe vigilare su queste fondazioni, e non ho ricevuto nessun tipo di risposta. Ecco, è molto spiacevole vedere arrivare ancora una volta la magistratura dopo la politica, quando per una volta la politica aveva la possibilità, quantomeno per responsabilità, oltre che per obbligo di legge, di arrivare a rispondere alle esigenze di un territorio. Sarebbe potuto arrivare prima della magistratura, invece ancora per una volta ci siamo, si sono fatti cogliere in castagna. Grazie. La ringrazio, onorevole Dadone. Onorevole Sibiglia, prego.